Ieri pomeriggio sono state arrestate 33 persone, ora sono diventate 34 con l'arresto del custode dello stadio in circostanze e per ragioni che fanno capire qual era il clima e il contesto nel quale la vicenda è accaduta. ...con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 5 febbraio 2007 con inizio alle 15. Le forze di polizia hanno attuato interventi di alleggerimento, ricorrendo anche all'uso di alcuni lacrimogeni per disperdere fascinorosi che facevano uso di spranghe di ferro e di bastoni, continuando nel contempo a lanciare bulloni, pietre, bombe carta e altri oggetti. Non deve essere più possibile. Se gli impianti non sono a regola, in quegli impianti il pubblico non può entrare. Si possono svolgere le partite a porte chiuse, fino a quando non interviene l'adeguamento, ma non ci deve essere più la possibilità che accada una questione del genere.